benvenuti nel nostro terzo allenamento vi ho appena mostrato qual è il mio strumento per il riscaldamento utilizzate quello che avete in casa va tutto bene un rotolo di carta igienica una mela una pallina qualsiasi cosa partiamo con il side crawl beast quindi cerchiamo di mantenere la colonna estesa senza far cascare il nostro vincolo e ci spostiamo lateralmente passiamo a un hand to hand cercando di mantenere il centro più solido che si può o se per caso diventa troppo impegnativo il lavoro con l'appoggio sui piedi passiamo in appoggio sulle ginocchia slide shot passiamo dietro la linea del ginocchio cerchiamo di mantenere centro solido mantenere l'equilibrio possibilmente tutto il piede costante al pavimento e flettiamo il ginocchio quindi facciamo spazio con la gamba posteriore mandandola verso dietro e facciamo passare la pallina dietro il ginocchio se è troppo difficile appoggiamo la gamba dietro e portiamo il ginocchio al petto e chiudiamo con una parte di centro facendo passare la pallina dietro la linea della coscia qui parte il nostro vero allenamento sono 21 minuti di lavoro dove ripetiamo per sette minuti di fila una sequenza la prima è costituita da air squat push up con le relative regressioni che ormai conosciamo bene e poi un quad squat quindi flettiamo estendiamo possiamo non appoggiare le ginocchia oppure con le ginocchia appoggiate comunque portiamo tutto il corpo in estensione ripetiamo questa sequenza per sette minuti sul minuto bar peace anche in questo caso possiamo scalare o il numero di bar peace condotti in maniera regolare nella combinazione più dura passiamo da 14 se no possiamo scegliere a 12 o a 10 oppure valutiamo la possibilità di farli senza piegamento sulle braccia anche in questo caso tutte le ripetizioni sono sul minuto da condurre per sette minuti di fila poi abbiamo il toes touches anche in questo caso è un lavoro però a tempo quindi non ha ripetizioni o 45 o 30 secondi per altri sette minuti se è troppo duro passiamo uno shoulder tap allenamento impegnativo ripeto ogni ripetizione sul minuto per sette minuti di fila grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti